lo slalom lo slalom lo fanno sempre quindi non c'è da migliare eccolo la il trello mi trovo caldo scusatemi benvenuto il treno è arrivato quindi li stiamo bene ora aspettiamo che parti subito e poi viene di donna palma tanto gli slalom qua non mancano mai che li fanno sempre lo spazio trafico si trova in questo punto qua fino a qualche anno fa solo che ma per i pullman non esiste più eccolo qua il treno con un fare accecato però si va avanti con la ciccone su piano ma è pieno abbastanza pieno da tutti i graffiti però può andare quindi quello che c'è te cose eh non so ecco gli sbagli che si alzano vabbè salutiamo allora i nostri amici Aldo grazie a tutti per la visione e grazie a Raffetto per mi fa scopo partecipare a Raffetto direttore ciao a tutti e a presto a presto a presto